La Fornace TV trasmetterà la prima maratona a rete unificata per capire la politica che ci governerà. Una lunga diretta no stop per seguire in tempo reale i risultati delle elezioni politiche 2013. Aggiornamenti sugli spogli elettorali, exit poll, proiezioni, interviste, approfondimenti e collegamenti dalle città italiane. Da Tiscali Campus di Cagliari, gli aggiornamenti con la redazione di Tiscali Notizie, da gli studi Altra TV.tv di Bologna, il talk con gli ospiti, da Ristano, la finestra con tutti i numeri, da Lazio, Lombardia e Molise, i risultati delle elezioni regionali, da Friuli Venezia Giulia, Campania, Piemonte Sicilia, lo spoglio nelle regioni in Vico, in collegamento agli utenti social news di Tiscali. Una produzione tutta nata sulla rete, grazie a Tiscali.it e dal network Altra TV.tv Italia vota l'hashtag per twittare in diretta. Italia vota, maratona elezione 2013 a rete unificata sull'Italia che verrà. Lunedì 25 febbraio, dalle ore 14. A rete unificata su network Altra TV.tv e su, la formace tv. La formace tv, sforniamo a grandi, momenti di televisione.